Sono quasi 50.000 i pugliesi inseriti nella fascia di priorità per le prime vaccinazioni anti-covid-19. Il Ministero della Salute ha indicato gli hub che forniranno il vaccino ai pugliesi. A Lecce staranno il Vito Fazzi e il Panico di Tricase, ai quali si aggiungono le altre strutture del territorio pugliese. Si dovrebbe partire a fine gennaio. In Italia arriveranno 3,4 milioni di dosi di siero che basteranno a 1,7 milioni di italiani, visto che serviranno due somministrazioni. Si partirà dagli operatori sanitari, passando per gli ospiti dell'RSA e i collaboratori di queste strutture. Poi successivamente toccherà ai soggetti in età più avanzata, come gli ultraottantenni. Ora le ASL sono al lavoro però per sviluppare quella che sarà la procedura di tracciamento e la registrazione delle persone vaccinate. Un passaggio decisivo per l'eventuale rilascio della patente di avvenuta vaccinazione che potrebbe venire richiesta in caso di spostamenti dalla propria regione. Dopo quella del vaccino, la nuova sfida è quella della gestione dell'organizzazione del futuro che passa attraverso la patente del vaccino anti-covid.